ben trovati ben trovati con un ben trovati da parte mia Matteo Porfiri la nostra rubrica che in questi giorni si sta concentrando ovviamente sull'analisi del voto per quanto riguarda le marche ci sono state lo sapete nello scorso weekend sia le elezioni europee che quelle amministrative in diversi comuni anche della nostra regione oggi siamo ad Ascoli con il rinnovato consigliere comunale riconfermato consigliere comunale del partito democratico Francesco Ameli ben trovato Ameli buongiorno buongiorno Matteo e grazie a Veratv per il grandito invito di questa mattina allora ovviamente diciamo così il protocollo prevede che io ti dia del lei però insomma visto che ci conosciamo da anni mi permetto subito di sfatare il tabù e ci diamo del tu se sei d'accordo va bene va benissimo ti volevo chiedere innanzitutto un po' un'analisi generale no di questa tornata elettorale perché il partito che rappresenti ricordiamo sei segretario provinciale del partito democratico a livello nazionale ha fatto un bel balzo in avanti c'è stato un bel risultato no per il PD che si conferma seconda forza a livello nazionale ha se non vado errato ha recuperato 5 punti percentuali e quindi insomma vuol dire che la missione Schlein finora sta funzionando no? Che ne pensi? Che soddisfazione c'è? ma hai usato il termine esatto ovvero che il partito democratico non è solamente cresciuto rispetto alle scorse europee rispetto alle scorse politiche ma ha fatto proprio un balzo in avanti ovvero abbiamo avuto una progressione importante rispetto ai dati degli anni e dei mesi passati anche a livello nazionale ci confermiamo come seconda forza politica del paese eh eleggendo una nutrita eh schiera di euro deputati in particolare nel centro Italia dove il risultato è ancora maggiore rispetto alla media eh nazionale e eh sono contento di una cosa le marche tornano ad avere un euro parlamentare del partito democratico ovvero Matteo Ricci eh dopo vent'anni eh dopo vent'anni eh un euro parlamentare in gamba che io anche io personalmente ho sostenuto e sono convinto che questo darà aiuto alla nostra regione ma anche ai nostri territori perché sappiamo bene quanto Matteo Ricci sia legato e vicino al al Piceno. Anche nel nostro territorio il partito democratico ha fatto un aumento sia in termini percentuali eh sia in termini assoluti eh e da terzo partito eh e da terzo partito che eravamo nel duemiladicianno all'europeo del duemiladicianno siamo riusciti ad andare avanti e anche qui abbiamo consolidato il risultato e siamo adesso il secondo il secondo partito della della provincia ovviamente l'obiettivo è riuscire ad essere il primo partito per quanto riguarda il voto politico alle elezioni europee ma la cosa importante ecco è questo balzo in avanti e questa rinnovata credibilità che viene anche dalla guida ma oltre che dalla guida politica anche da una sintesi politica nella composizione delle liste del partito democratico penso che eh questa sia sia la strada giusta una strada fatta anche e soprattutto di chiarezza di proposta politica e tra la che tra l'altro va di ad identificarsi in un campo politico un campo politico che diventerà e sta diventando sempre più un eh duopolio mi pare che eh lo spazio politico del centro sia in esaurimento ma proprio per un tema di chiarezza e di proposta e di proposta politica e si vanno definendo questi due schieramenti centro-destra e centro-sinistra in maniera chiara, netta e definita. Francesco Meri quanto è importante per le Marche avere ricci al Parlamento europeo? Ma è importantissimo perché penso ad alcune macro tematiche, penso alla eh tematica della macro regione adriatico ionica, penso alla tematica del tema infrastrutturale che eh passa sì all'interno dei governi regionali e nazionali ma a tutte quelle che a tutte direttive europee. e penso che questa cosa sia assolutamente importante per il Piceno perché eh abbiamo una costa da riorganizzare dal punto di vista infrastrutturale. Io continuo a continuo a ripetere che il Piceno è stato è stato preso in giro da una cosa che si chiama Ferrovia dei Due Mari ma questo mh a mio parere personale e allo stesso tempo invece la riconnessione con quello che è il di con quello che sono i paesi i paesi dell'est e quindi quel dialogo che deve tornare ad esserci rispetto ad uno scambio di merci infrastrutturali. Quindi Matteo Ricci è importante per questo ma è importante perché ogni voto che è stato dato al Partito Democratico è stato un avviso di sfratto all'amministrazione regionale guidata da Coroli. L'unica cosa che dispiace è che noi potevamo eh riuscire ad avere anche un secondo erodeputato che è stato che era a Alessia Morani che purtroppo non non è stata eletta di poche migliaia di voti a mio modo di vedere per una scelta sbagliata rispetto a delle candidature che per dopo in qualche modo l'hanno abbassata nel diciamo nel nel sostegno ma queste sono cose che eh andremo a vedere all'interno proprio degli organismi degli organismi di partito quindi Matteo Ricci penso che sia una grande opportunità per il Piceno e per le Marche anche e soprattutto per il legame che lui ha con noi questo è è in dubbio e anzi voglio ringraziare anche chi ha coordinato la campagna la campagna di Ricci qui a livello territoriale con il coordinatore che è Francesco Di Vita che si è impegnato molto in in tal senso che tra l'altro saluto mio coinquilino nell'esperienza universitaria maceratese Francesco Di Vita così non interessa a nessuno ma una piccola curiosità senti Francesco Ameli invece veniamo un po' ad Ascoli no a quelle che sono le note dolenti innanzitutto c'è da festeggiare il tuo la tua riconferma no in consiglio comunale quindi eh congratulazioni però forse ecco ci si aspettava qualcosa di più dalla coalizione di centrosinistra qui vediamo in questo riassunto che insomma Emilio Nardini non è andato oltre il 25,8 per cento delle eh preferenze al contrario del 74,13 per cento ottenuto da Marco Fioravanti per il PD il 10 per cento insomma eh si poteva fare meglio? beh quando si perde si doveva fare meglio mi verrebbe da dire da dire questo perché la sconfitta è stata netta e senza appello il 25 per cento 26 il 26 per cento preso da Nardini eh che poi magari con contenciate con con le schede bianche e altro come riporta il sito del comune potrebbe anche essere un 27 ma non cambia molto rispetto a quello che è il dato il dato finale la verità è che il voto politico dell'europeo non si rispecchia o quello nazionale o anche quello regionale non si rispecchia proprio su quello che è il voto politico eh locale dove eh questo proliferare di liste questa eh organizzazione politica nella quale conta più il rapporto di parentela e di amicizia eh purtroppo mette in difficoltà quelle che sono le le liste che invece hanno una caratterizzazione politica insomma l'Italia ad Ascoli prende il quattordici per cento le comunali all'europea prende quasi 40 per cento quindi capite che il problema non è solo del partito democratico ma è di tutti quanti i partiti anzi il partito democratico in percentuale è forse quello che che tiene che tiene di più certo ripeto non ci sono scuse per questa sconfitta che ho avuto modo di dirlo anche ieri in un'occasione pubblica che non nasce dagli ultimi cinque mesi ma nasce dagli ultimi cinque anni nel quale nei quali l'opposizione è stata è stata silente e rispetto ad alcune scelte dell'amministrazione e rispetto ad un sindaco che ovviamente ne ha ehm giovato per quanto riguarda tutto il periodo covid perché mentre noi eravamo chiusi nelle case lui entrava in maniera diretta eh senza alcuna mediazione che come quella che noi stiamo avendo ovvero quella quella televisiva o quella giornalistica che entrava dentro le case dei cittadini in maniera diretta facendo lui il giornalista no se ricordiamo quindi quello è stato un periodo nel quale lui ha confermato in maniera importante la sua la sua posizione politica eh adesso c'è ripeto quindi gli errori sono stati tanti e penso che la dimostrazione sia il fatto che il movimento cinque stelle non è entrato in consiglio comunale eh questo deriva dal fatto di eh una mancata strategica di opposizione eh un po' di guardarsi troppo l'ombelico e non il guardare fuori fuori la città e fuori quello che deve che deve che deve vedere il cittadino questo è stato sempre poi tra l'altro un limite anche del del centro del centro sinistra adesso c'è da ripartire da rimboccarsi le maniche prepararsi non dico oggi ma forse già fra una settimana eh una volta composta la giunta per le prossime elezioni comunali la campagna elettorale a mio modo di vedere inizia già adesso inizia adesso ma eh deve essere fatta in maniera seria deve essere fatta con eh con la testa come si direi parliamo invece di questo insomma tuo bel successo cinquecentottantacinque le preferenze se non vado errato insomma un numero sì importante voglio dire hai preso più preferenze anche di alcuni eh alcuni assessori uscenti eh anche lo stesso Gianni Silvestri se non vado errato che eh è uno tra gli assessori uscenti che probabilmente verrà riconfermato in giunta credo abbia preso meno voti meno voti di te insomma bisogna dire che è un bel risultato cinquecentottantacinque no? Che soddisfazione c'è? Ma è un risultato inaspettato perché ehm nei conti che io facevo pensavo di essere di essere molto molto meno è inaspettato soprattutto perché ehm dall'opposizione non si hanno gli strumenti del consenso dell'amministrazione nel senso che eh io non ho fatto cose che potessero no? Acquisire consenso quando penso all'opera repubblica no? Marco Cardinelli un assessore che non ha mai detto una parola eh in pubblico in vita sua eh in consiglio comunale praticamente non la dico come sono le cose magari eh legge le delibere ma prendi 1200 voti quindi questo è il frutto no? Dell'amministrazione che eh che che poi paga eh io ho messo solo la politica in mezzo ho messo solo le mie idee ho messo un'idea di città e penso anche di averci messo anche la voglia di di fare opposizione di studiare e di dare una proposta alternativa ehm quindi questo è il risultato che dal lato è sarà ipocrita se dice sì che non è soddisfacente perché quasi 600 preferenze dall'opposizione eh non è non è cosa banale né soprattutto né soprattutto scontata. Che mandato sarà adesso quello di Francesco Ameli? Quali obiettivi? Io penso che ah io penso che questo sarà un mandato nel quale ehm dovremo e dovrò in particolare sì fare opposizione ma aiutare a far crescere anche un gruppo di persone che possa continuare il percorso all'interno del del consiglio del consiglio comunale perché ehm penso che al terzo mandato si debba dire stop eh quando si fa il terzo mandato da consigliere comunale dopo il terzo si debba si debba fare stop per perché è il giù è il caso di di far di far spazio ad altri questo penso sia la cosa più importante più importante di tutte e quindi far crescere all'interno del consiglio comunale dare partecipazione dall'altro lavorare tanto sulla sulla città e lavorare tra le persone perché penso anche che questo consenso sia derivato anche ripeto da una visione da una voglia di fare opposizione ma anche da un contatto di fatto giornaliero con i cittadini con i cittadini e nella capacità nella diciamo nella disponibilità anche a eh raccogliere le loro istanze e le loro esigenze questo è penso che derivi da questo dopodiché ecco le preferenze servono a poco quando si è all'opposizione serve la squadra c'è una squadra nella quale c'è il seretario comunale Procaccini c'è Emanuela Marcucci che è la seretaria del circolo sanità ci sono altri consiglieri eh giovani come Marta Luzzi e Andrea Dominici c'è una rappresentante Paola Petrucci che è una persona in gamba penso che ci sia una squadra volenterosa che è un mix di novità dove gli unici confermati uscenti siamo solamente io Angelo Procaccini quindi daremo una mano anche in questo senso. Bene in bocca al lupo allora buon lavoro e grazie per essere stato con noi a Francesco Ameli poi ci ritroveremo sicuramente nel corso delle prossime settimane anche per lanciare un po' uno sguardo al futuro no del del PD e eventualmente anche alle elezioni regionali che chissà magari ti vedranno anche protagonista. A questo vedremo non lo so c'è tempo per discuterne. Grazie grazie a Francesco Ameli di nuovo congratulazioni in bocca al lupo. Grazie a voi per l'invito. Saletario provinciale del Partito Democratico e riconfermato consigliere comunale ad Ascoli Piceno. Un caffè con termina qui grazie per averci seguito buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.